Che stai facendo? Una foto, amore. Non è bello. Non ci vedevamo da un mese. Questa è la situazione dopo un mese intero, quindi è chiaro, non ci vediamo. Ok, Giorgina, quale situazione? Il caffè la leva? Tu non ci sei mai. Ah, leva amico, non sa fa... Chiara è il cane, il cane è Chiara. Allora, cucciole, io vi mostro il Cuoco Viva set. Vabbè, che voi i prodotti di Hello Body, gente, già li conoscete perché ve li ho mostrati già svariate volte, quindi vi dico, vi spiego. Allora, come vi ho detto, tutti questi prodotti fanno parte di un set che è il Cuoco Viva set, come vi ho detto, e ricoprono sia la cura dei capelli, sia del corpo, sia del viso, quindi è un set completo a tutti gli effetti. Allora, poi ragazzi, giusto per dirvelo, io mi trovo benissimo con il Cocoslim, che mi lascia una pelle super idratata, super tonica, e un olio, quindi potete metterlo dove volete, e il Cocorice per le labbra. Allora, tutti questi prodotti sono in saldi, quindi approfittate, e su tutto il set che io vi ho fatto vedere, potete avere il 50 con il mio codice ascolto. Quindi, buona fortuna, divertitevi, e fatemi sapere cosa scegliete. Oddio, sono Giorgia, sono stupenda, tutti mi vogliono. Lasciala stare. Oddio, sono Giorgina. Smettila, pazza. Sono bella, sono monella. Smettila. Oddio, sono Giorgia, pazza.